Cari pazienti, è un piacere essere qui con voi oggi. Volevo parlarvi molto velocemente in questi brevi filmati che sto preparando delle migliori tecnologie che abbiamo qui al Centro Medico Visconti di Modrone. Questo è in particolare il laser frazionato. È una cosa che ormai si conosce abbastanza bene. Abbiamo un'esperienza enorme, abbiamo questo laser particolare molto utile in dermatologia estetica ed anche in ginecologia per l'ingiovanimento vaginale, di cui io non mi occupo. Invece io mi occupo dei laser frazionati per il volto, dei laser frazionati per le mani. È un laser particolare, molto gentile, con una possibilità di complicanze veramente bassissima e questo è il momento migliore per affrontare queste problematiche di melasma, iperpigmentazioni, di rughe. Si può fare per esempio la regione periorale, la regione perioculare, molto bene, con una guarigione che non arriva a 10 giorni, 7 giorni come massimo, ma dopo già 3-4 giorni uno può truccarsi e quindi è molto facile. Io vi ringrazio e vi attendo qui al Centro Medico Visconti di Modrone. Grazie a tutti.